La quattordicesima edizione della giornata di Bertinoro, che avrà luogo il prossimo ottobre, avrà come tema generale dal dualismo alla coproduzione. Qual è l'idea centrale? Quello che ormai è noto ai più nel nostro Paese è che accanto ad un dualismo economico e sociale tra il Nord e il Sud Italia, negli ultimi 10-15 anni si è accentuato il dualismo civile. E questo è per certi aspetti molto più preoccupante, perché mentre per accorciare il dualismo economico è possibile pensare a iniziative di intervento infrastrutturale, industriale, eccetera, per accorciare il dualismo civile, ci vuole ben altro. Ebbene, le giornate di Bertinoro vogliono scandagliare questo aspetto, che non è certamente dei minori nel nostro Paese, non dimentichiamo che nel solo mezzogiorno d'Italia vive il 37% dell'intera popolazione italiana e soprattutto proporre soluzioni. E ovviamente, trattandosi di giornate dedicate all'economia civile, è facile immaginare quale sarà la chiave per trovare soluzioni al problema posto, che è quello di rivitalizzare tutte quelle espressioni di economia civile che in questi ultimi tempi, in relazione anche alla recente proposta del governo Renzi di dare vita ad una riforma globale e strutturale del terzo settore, vedono questi soggetti in una posizione di protagonismo o comunque di coprotagonismo. Esempi pratici, studi di caso completeranno poi, faranno a corona alle relazioni di base che diversi studiosi provenienti da diversi ambienti italiani universitari andranno a fare.